Ciao a tutti, buon weekend e oggi visto che è sabato ho deciso di portarvi un video un po' più leggero Infatti andremo a fare un semplice confronto di valutazione tra Visa e Mascara Che sono i due più grandi player nel settore dei pagamenti digitali Tra l'altro se avete piacere di vedere altri video del genere su altri confronti fra aziende simili o comunque che hanno un duopolio Fatemelo sapere qua sotto con un like e un commento Mi è venuta l'idea di fare questo video semplicemente perché ieri dopo lavoro Per curiosità sono andato a cercare qual era la crescita stimata da qua ai prossimi 10 anni per il settore dei pagamenti digitali E ho visto che effettivamente, ma lo sospettavo, la crescita è molto elevata quella stimata Infatti su diverse fonti ho comunque constatato che la crescita stimata è sempre all'incirca tra il 15 e il 20% Qualche percentuale in più, qualche percentuale in meno ma sempre nell'ordine del 17-18% Infatti anche secondo questo sito qua abbiamo una crescita stimata sempre intorno al 17-18% come vi dicevo prima A questo punto ho deciso semplicemente di prendere gli algoritmi che ho creato io di valutazione aziendale Li ho uniti insieme, ho creato un foglio Excel dove andiamo ad analizzare e fare il confronto e vedere quale indicatore è meglio fra i due Ci tengo ovviamente a dirvi che queste sono mie valutazioni personali e quindi dovete prenderle anche con le pinze A questo punto ho semplicemente creato un foglio Excel dove potete vedere in verde o in bianco quali sono i dati migliori Infatti quelli migliori ovviamente sono quelli in verde A questo punto potete vedere come a prima occhiata capite subito che su alcuni dati è nettamente messa meglio Visa Oppure in altri è nettamente messa meglio Maschera Andiamo a vedere ad esempio gli indici di redditività ovvero ROE, ROA, ROIC e ROCE Ovviamente in questo video non posso andare a spiegarvi nel dettaglio cosa sono questi indicatori qua Se avete piacere semplicemente potete prendere il nome e cercarlo su internet molto brevemente Vi dico magari i più importanti Il ROE sarebbe il Return on Equity È semplicemente un indicatore che ci metta a confronto l'utile netto di un'azienda con il proprio patrimonio netto A questo punto potete vedere come il ROE di Mastercard sia 1.4 volte più grande della sua equity Che non sempre è un indicatore di bontà È per quello che io metto insieme più indicatori possibili in modo tale che mi portino ad avere una valutazione più congrua possibile Una cosa che mi fa sempre impressione vedere è il margine che hanno entrambe le due aziende Cioè pensate che hanno un gross margin, una dell'80% e l'altra del 77% Un net margin del 51% Sono margini doppi rispetto ai margini delle tech che sono comunque doppi se non tripli rispetto agli altri margini che hanno altre aziende Capite che qua ci troviamo di fronte praticamente a un duopolio inattaccabile O perlomeno a meno che non ci siano enti regolatori che mettano i bastoni fra le ruote È difficile che qualche azienda riesca a rubare quote di mercato a questi due qua Poi andate a vedere anche come il tax rate è più basso rispetto alle altre aziende Infatti hanno un tax rate abbassa basso soprattutto Massacre Un tax rate del 14-15% è perfetto direi Anche in termini di posizioni di cassa nei confronti con i debiti sono entrambe messe benissimo Pensate che Visa ha un rapporto fra cash e debiti totali di 0,83 Vuol dire che supponiamo abbia 100 miliardi di debito Vuol dire che ha 83 miliardi in cash e cash equivalent Quindi perfetto Per quanto riguarda anche i multipli qua la situazione non cambia Infatti Visa ha tutti i multipli più bassi Sia il PA sia il price to sales sia il price to book Il price to free cash flow e il price to operating cash flow Stessa cosa vale per ovviamente earnings yield e free cash flow yield Per quanto riguarda invece indicatori un po' più di analisi tecnica Vediamo come si ha leggermente messa meglio Massacre Semplicemente perché è salita di meno Infatti considerate che un indicatore RSI sopra il 70 Indica che un'azienda è in ipercomprato Vuol dire che i volumi in acquis sono eccessivamente più alti rispetto alla media E questo può teoricamente prevedere nel breve periodo dei ritracciamenti Che potrebbero essere interessanti per poter entrare magari in determinate aziende Per quanto riguarda il target a un anno degli analisti abbiamo 9,74% per Visa e 8,82% per Mastercard Per chi fosse interessato ai dividendi invece abbiamo un dividend yield di 0,78 per Visa e 0,61 per Mastercard A questo punto capite che già un indicatore per quanto riguarda i colori vi fa capire quale delle due io prediligo Considerate sempre che io ho entrambe le aziende in portafoglio Quindi questa comparazione l'ho fatta principalmente per voi Quindi spero siete apprezzando Ora vediamo la parte un po' più succulenta Perché sono sicuro che sia la parte che vi interessa un po' di più Ovvero quanto stimo la crescita di entrambe le aziende da qua a 3 anni Sia per gli utili per azioni sia in generale per il prezzo E poi abbiamo un rating finale delle aziende E anche una cosa molto importante La sottovalutazione o sopravvalutazione tramite un discounted cash flow molto semplice Per quanto riguarda la crescita stimata per i prossimi 3 anni Vediamo come dovrebbe crescere leggermente di più Mastercard E sto parlando dell'utile per azione Infatti la stima è leggermente più alta quella di Mastercard Ovviamente vi ho preso le stime degli analisti Per quanto riguarda il discounted cash flow però quale situazione cambia? Ed è dovuto principalmente al fatto che ci siano multipli leggermente diversi Infatti il price to free cash flow di Mastercard è molto più elevato rispetto a quello di Visa Infatti sono un 35 contro un 21 Infatti prevedo una forte sottolotazione per Visa all'incirca di un 30% E una leggera sottolotazione per Mastercard Per quanto riguarda il possibile guadagno da qua a 3 anni tramite una valutazione dei multipli Otteniamo una situazione praticamente uguale Infatti abbiamo un profit and loss possibile da qua a 3 anni di un 47% per entrambe Ma leggermente messa meglio Visa Per quanto riguarda il rating finale da 1 a 10 tramite il mio algoritmo Otteniamo una valutazione di 7,17 per Visa e 6,55 per Mastercard E questo ci porta ad avere uno ed uno solo vincitore Che è Visa Detto questo spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un bel like, un commento E se avete piacere di vedere altri video su aziende del genere Lasciatemi un bel like Ciao a tutti